Guasto alla condotta idrica su via Risorgimento ad Agropoli, questa notte intorno alle 2 all'altezza del bar Dusendorf. La forte pressione dell'acqua che fuoriusciva dalla condotta idrica ha fatto sollevare alcune mattonelle dal marciapiede, creando alcuni disagi alla circolazione e a diverse attività commerciali situate proprio dove si è verificato il guasto. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ASIS che stanno provvedendo alla sostituzione del tubo. Gli interventi sono terminati all'ora di pranzo con il ripristino del servizio idrico.